Siamo al Salone dei Pagamenti, che si occupa di un settore ormai in continua evoluzione. Stanno cambiando anche le abitudini, le richieste e le esigenze dei consumatori. Come sta rispondendo PostePay a queste nuove richieste? PostePay sta rispondendo con una grande crescita. Alle carte, che è il nostro dominio storico con le PostePay prepagate, stiamo arricchendo la gamma anche con tutto ciò che sono i wallet e le app, che consentono poi di poter pagare in digitale. Infatti le due grandi cose che osserviamo qui al Salone sono la crescita dei pagamenti contactless nei negozi fisici e la crescita dell'e-commerce, dove PostePay gioca un ruolo fondamentale perché un pagamento su tre di e-commerce in Italia è fatto tramite noi. Al Salone abbiamo portato tre grandi novità, la PostePay digital, il mobile post e il soft post di SDA, quindi la possibilità di incassare con carta quando si riceve un pacco della nostra area pacchi PCL. Qui ci sono tutte le innovazioni, come diceva lei. Le nuove sfide, quale sarà? Oltre adesso è la mobilità, il pagamento in mobilità. Le nuove sfide quale saranno? Le nuove sfide all'orizzonte di cui parliamo a Salone sono le nuove tipologie di pagamenti che entreranno in funzione dall'euro digitale a tutte le altre grandi innovatori internazionali, ma noi ce la faremo, siamo PostePay e siamo di Poste Italiane.